Tanto buon lavoro al Sindaco, ci siamo sentiti molte volte visti a riunioni ma non ero ancora venuto a vedere Marco insediato nei suoi splendidi uffici, anzi penso che i prossimi 5 anni potremmo fare a cambio, lui fa il Presidente della Regione e io vengo qua perché è quasi più bello di Piazza De Ferrari. A parte gli scherzi abbiamo molte cose che ci corrono dietro, quest'estate non sarà un'estate di vacanza credo per nessuno di noi perché abbiamo molte cose da risolvere, quello che mi premeva ha detto che sta facendo un ottimo lavoro, mi sembra che tutti abbiano ingranato con la marcia giusta e quindi dal punto di vista della collaborazione istituzionale siamo già molto avanti anche perché abbiamo parlato molto durante la campagna elettorale, subito dopo condividiamo le scelte strategiche che Marco sta facendo per questa città. Abbiamo una serie di temi su cui prima dell'estate vorrei una svolta vera e anche questa condivisa con il Comune che sono sostanzialmente l'allocazione delle risorse su Erzeli attraverso il patto per Genova e quindi la definizione del famoso ospedale di Ponente, cosa che prima della fine di luglio faremo. Dall'altro lato abbiamo il tema del porto, dell'NBIC, del blueprint, abbiamo il salone nautico che parte tra poco e tra poco faremo insieme una riunione con Lucina per definire i dettagli di un salone che è ripresa. Insomma, poi buon lavoro, ne avremo davvero tante da fare, il tema dei rifiuti che va affrontato insieme, quindi abbiamo fatto come si dice un calendario abbastanza fitto delle prossime tre settimane e tanto colgo di nuovo l'occasione per augurare buon lavoro, in bocca al lupo e credo che siano partiti veramente col piede giusto. Come affrontare la realtà romana, dove dobbiamo lavorare tutti assieme e far vedere che regione, comune e autorità portuale sono tutti allineati sulla strategia che porta Genova a essere grande. Questo secondo me è estremamente importante perché rinforza il concetto della nostra visione e ci dà la possibilità veramente di far sì che il progetto possa essere messo in atto. Questo discorso, ad esempio, sul patto per Genova, come usare le nostre risorse, come usare le altre risorse che vengono fatte per Genova e la Liguria è una cosa estremamente importante perché diventa non solo strategica ma operativa.